Presidente, tra due mesi aprono i saloni, un evento sempre più rivolto all'estero che guarda sempre più i nuovi mercati che possono rappresentare anche il futuro per le nostre aziende, anche per una ripresa del mercato. Un suo commento? Beh sì, è una vetrina importantissima, fantastica, un momento in cui le nostre aziende appunto si possono presentare ad un grande pubblico, a un pubblico internazionale ed è vero che oggi le nostre aziende devono sempre più guardare ai mercati esteri, a percorrere un cammino di internazionalizzazione, di consolidamento delle loro posizioni all'estero. Questo evidentemente è dovuto anche al fatto che il nostro mercato in questo momento è un po' in difficoltà, però non dobbiamo dimenticarcelo, quindi evidentemente è il mercato nostro di riferimento e quindi il salone si rivolge anche al mercato nazionale e alla nostra distribuzione, in modo particolare io parlando del bagno devo dire che sta diventando sempre più un riferimento, come ho detto prima, per i mercati internazionali ma anche per il nostro mercato nazionale. Cosa si aspetta dall'edizione di quest'anno del salone del bagno? Cosa mi aspetto? Mi aspetto di vedere tanti visitatori sicuramente e un pubblico attento a cercare evidentemente innovazione e credo che ne vedremo molto insomma innovazione intesa non come nuovi prodotti ma anche proprio come concetto proprio di funzione oltre che evidentemente di design nel suo complesso. Mi aspetto questo insomma, mi aspetto questo ma il salone è un evento che come dico non è soltanto una vetrina per il prodotto ma è anche un evento di cultura, quindi far crescere la cultura io parlo del comparto che rappresento, quindi dell'arredamento bagno, questa è una funzione importante che svolge, mi aspetto tanti evidentemente professionisti, architetti che ci aiutino nel cammino evidentemente di sviluppo delle nostre aziende.